In Piemonte, in occasione dell'Assemblea regionale delle Proloco Piemontesi, un'occasione per incontrare il territorio di questa splendida regione, un'occasione per magari un po' riorganizzare il comitato regionale, in questa occasione, in questo momento, in particolar modo, visto un po' l'emergenza sanitaria, diciamo che vengono espresse le migliori intenzioni per poter riorganizzarsi e poter mettere in piedi un po' tutto il lavoro che dovrà essere fatto per il futuro. Partendo appunto qua da questa splendida provincia che è il Verbano Chiusiossola per un po' iniziare questa visita del Piemonte, che finirà appunto con la giornata elettiva che porterà i nuovi vertici del Piemonte.